Ciao a tutti, scusate se non ho più pubblicato video ma ho iniziato le superiori quest'anno e sono stata molto impegnata, ormai sta finendo la scuola e volevo ricominciare a fare video, cosa ne pensate? Come al solito, se volete un video sulla vostra confessione basta scriverla nei commenti, fatemi sapere se volete nuovi video quest'estate e niente ciao